Fiat 1100 e berlina del 1950 ferma da più di 30 anni mostra tutti i segni del tempo di grande fascino ma necessariamente bisognosi di cure. Siamo intervenuti sul motore e sulla meccanica sostituendo alcune parti e ricostruendone altre nei minimi dettagli. Musica Abbiamo smontato e revisionato la testa cilindri ma soprattutto abbiamo ispezionato e pulito i circuiti di lubrificazione e raffreddamento naturalmente ostruiti da ossido e depositi. Musica La manutenzione generale ha poi interessato anche le sospensioni, la trasmissione e il salvatore della benzina anch'esso arrugginito e in pessime condizioni. Musica 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 presto la rivedremo su strada Grazie a tutti